E' un momento, un momento, non è successo niente, sono seduto al tavolo, lavoro. Devo lavorare. Controllarmi. Come è potuto accadere questo? Come è potuto accadere questo? Quando è cominciato? Quando è cominciato? Perché? 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 Elena? Elena? Perché? Perché? Ti voglio bene. Ti voglio bene. Chi sei? Non so nulla di te. Cosa mi nascondi? Un segreto? Un segreto. Un segreto? 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 Pronto? Pronto, Michele? Sono Ugo. Tanto lo so che non rispondi. Senti, non abbassare. Volevo dirti, sono al mare, a casa di Elena. Perché non vieni anche tu? Pronto? Non potevamo vivere sempre così. Senti. Isolati dal resto del mondo. Non potevamo vivere sempre così. Gli voglio bene, certo. Ma non come pensi tu. Non come pensi tu. Stai rovinando tutto. Per una cosa da nulla. Stai rovinando tutto. Stai rovinando tutto. Stai rovinando tutto. Anima. Stai rovinando tutto. Grazie.